I 450 anni di Cosimo e di Vasari potrebbe essere un bel regalo, ne parlerò con il ministro San Giuliano, poter pensare a una mostra anche di un paio di mesi ad Arezzo dove riportare in modo temporaneo la chimera. Per ora è una speranza, l'importante, che non rimanga appunto una chimera. Ci sperano davvero tutti in un ritorno della chimera ad Arezzo dopo le parole del presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, che ha ipotizzato questo ritorno nell'ambito delle celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I e di Giorgio Vasari. La statua etrusca raffigura un animale mitologico, un leone in posizione aggressiva con una testa di capra che nasce dalla schiena e un serpente al posto della coda che aggredisce mordendo uno dei corni della capra. Fu rinvenuta il 15 novembre 1553 proprio ad Arezzo durante la costruzione di fortificazioni medice fuori Porta San Laurentino. Oggi qui si trova una replica in bronzo. Venne subito reclamata dal Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici per la sua collezione. Che proprio Cosimo I nei suoi scavi per realizzare la fortezza estrasse che è un simbolo di quella città. Dalle notizie del ritrovamento, presenti nell'archivio di Arezzo, risulta che il bronzo venne identificato inizialmente solo come un leone perché la coda, rintracciata in seguito proprio da Giorgio Vasari, non era ancora stata trovata e fu ricomposta solo nel XVIII secolo grazie ad un restauro visibile ancora oggi. Da allora la chimera di Bellero fronte si trova a Firenze nel Museo archeologico nazionale. L'annuncio, sperano molti aretini, si trasformi presto in una realtà. Si è espresso anche il primo cittadino di Arezzo. Ho accolto positivamente le parole del presidente Gianni, afferma Ghinelli, sulla possibilità di un ritorno della chimera ad Arezzo. Un ottimo assist per la nostra città sarebbe, si usa il condizionale, ovviamente un gran bel regalo e porterebbe lustro anche a Firenze per la generosità. E gli aretini potrebbero ammirare da vicino il loro simbolo più identitario.